Buongiorno a tutti, oggi facciamo un'traversata di un tratto della via Francigena del Sud partendo dal paese molto calino di Sermoneta, arrivando a Cori, nella provincia di Latina qui nel Lazio. Ecco quello che diceva il professore prima, le forze matrine, la natura matrine portando l'esterno su uno spazio recintato, quindi innanzitutto è crescita per una separazione tra il mondo aggressivo e costante dell'uomo e il luogo rassolto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti